Intanto qui vediamo che la Russia si sta preparando e poi linea dopo l'esercizio della Russia Fabrizia Dottavio vediamo se riusciamo ad avere un elemento intanto come artistico 9,35, 9,050 di difficoltà e 8,65 di esecuzione però nessuna penalità per l'Italia E' partita la Russia C'è una ginasta che sta facendo più di un errore, la vedete adesso al centro del teleschermo Ancora un'altra caduta Day Night di Cerny Show L'arrangiamento musicale Day Night di Cerny Show 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 Allora è un buon esercizio questo che abbiamo visto da parte della Russia Intanto è arrivata una segnalazione di un'altra infrazione da parte qui del giudice di linea però non mi è sembrato particolarmente entusiasmante Oddio io lascio la parola a te Isabella perché altrimenti sembra sempre che facciamo un discorso di parte pro Italia e che tutto il resto del mondo non ci faccio per forza Non ci faccio per la sua originalità, devono avere uno scopo, devo dirti qualcosa